Salta per la prima volta nella serie Scudetto il fattore campo. In gara 3 della finale play-off della Samsung Galaxy Volley Cup di Serie A1 femminile, Limoco Volley Conegliano riesce nell'impresa di violare il Palahigor e di conquistare un prezioso vantaggio nella corsa verso il tricolore. Le pantere di Daniele Santarelli vincono 3-0 al termine di un match guidato dal principio in cui i meccanismi funzionano praticamente alla perfezione e dedicano il successo a Raffaella Volley, vittima di un brutto infortunio al ginocchio all'inizio del secondo set. Quella che poteva essere una batosta dal punto di vista psicologico rafforza il gruppo giallo-blu che approfitta inoltre di un pomeriggio opaco della Igor Gorgonzola Novara. Ora le trevigiane avranno il primo match point al Palaverde in casa propria in gara 4 di fronte probabilmente a un palazzetto stracolmo. In una rivalità così equilibrata però ogni cosa è imprevedibile. Guarda, credo che gara 1 noi l'abbiamo affrontata con un po' troppo, forse troppa tensione ecco, e invece in gara 2 abbiamo portato a casa la vittoria e quindi abbiamo preso un po' di coraggio e di fiducia, anche perché Novara insomma ci mette sempre in difficoltà e non riusciamo sempre a esprimerci. Invece oggi siamo, secondo me, state proprio noi, cioè questo è il nostro gioco e insomma riuscire a esprimerlo vuol dire che tutti i tasselli funzionano, quindi penso che il merito sia nostro oggi.